Buonasera, se doveste dire distinto qual è la più grande forza della natura, l'elemento che fa più paura, a cosa rispondereste? Beh, probabilmente il primo a venirvi in mente sarebbe lui. Certo, sulla Terra vengono molti altri fenomeni, dirompenti, ma lui è quello che impressiona di più gli esseri umani, fa più paura per il suo essere inarrestabile, incontenibile, distruttore, e ascolteremo le storie che vada a raccontarci. Eccone un assaggio. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati alla fine del mondo di Lion. L'introduzione all'inizio, spero vi abbia fatto sorridere. Ragazzi, io lo dico per tutti, avete un cervello di merda, i fan fanno schifo tutti. Un'altra cosa importante, mi piacerebbe fare un gioco piselloso con tutti i bambini. Cosa? Chiamo la polizia? Mi piace potervi dare un po' di pisello nel culo perché il mio cazzo è qualcosa di epico. Vedrete se non vi ho detto la verità. Piccolo insegnamento, ragazzi, è bello morire quando Lion grida tipo no? Le grida di Lion ti si infilano nelle palle. Non sto scherzando, sono diventato il principe piselloso del mondo Se perdiamo questa battaglia, è quella La sorte che toccherà a ogni uomo al mondo Sono Super Lion Violentemente Lion E oggi il giorno tanto atteso è arrivato È la fine Ho escogitato un piano malefico Per distruggere Dio Il Super Hater, quello che ha cercato di combattere Lion Lui ha rivelato la sua vera identità Quindi ragazzi, oggi partiamo con il progetto morte nera E adesso per festeggiare direi che non ci rimane nient'altro di meglio da fare Che trovare un ragazzino innocente, un sempliciotto E poi Giù di cinghiade E poi il nonno E poi la mamma Giù di cinghiade Però con il cazzo Sono malefico Sono drogato Sono Lion Il forse è nato E ora Marisciallo Dio Esiste, veramente Il forse è nato Ma se vede La staggia è nato Questa è nato Il forse è nato Il forse è nato Prima della creazione stessa Esistevano esseri di straordinaria forza Incomparabile Questi possono falciare intere civilizzazioni come grano in un campo. Osservate. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv